Buonasera a tutti e ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Durante il campionato invernale Marionio che si disputa agli Argonauti di Pisticci è avvenuto purtroppo un grave incidente. Nel corso della regata un atleta è stato colpito dalla trave dell'albero dell'imbarcazione e trasferito poi nell'ambulanza a San Carlo di Potenza dove al momento è ricoverato in rianimazione. Vito Chimenti, allenatore della squadra giovanile del Pomarico, 69 anni, è morto ieri pomeriggio a causa di un malore negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico. Nato a Bari, Chimenti ha giocato in Serie A, in Serie B, in Serie C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo, Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato poi allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico della Salernitana, del Foggia, del Messina, del Matera, del Lanciano, del Rimini e del Virtus Casarano. Sabato 4 febbraio alle ore 18 presso la biblioteca comunale di Villa d'Agri di Marsi-Govettere sarà inaugurata una mostra fotografica a cura di Micosomma dal titolo di Campo di Bordo di Siepe, piccoli e sconosciuti, piccoli capolavori floreali. La mostra avrà come oggetto una documentazione fotografica della ricca floristica spontanea della Valle dell'Agri e di tutta la regione. L'iniziativa è infatti rivolta pedagogicamente agli studenti di scuole primarie e secondarie, nonché a tutti i cittadini. Realizzata, lo ricordiamo, in collaborazione con il comune di Marsi-Covettere e il locale plesso scolastico onnicomprensivo. Vediamo il tempo per domani, pioggia e cielo nuvoloso nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio ci saranno ampi rasserenamenti, temperature in lieve rialzo. Per questa sera è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do come sempre appuntamento a domani. Arrivederci. Grazie.